Grazie per questa giornata che ci hai regalato. Grazie, è stata magnifica, un'esperienza per me magnifica e per Jacopone. E Jacopone che a questo punto abbiamo cominciato ad amare ancora di più con i tuoi racconti, la tua passione totale che ci hai trasmesso. Quindi grazie e un saluto a tutti i todini. Grazie. Grazie a tutti.